L'ammiraglio Pietro Vella è il nuovo direttore marittimo della Campania e comandante della Capitaneria di Porto di Napoli. Ha assunto il comando ieri nel corso di una cerimonia presieduta dal comandante generale della Guardia Costiera, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, che si è tenuta nella stazione marittima di Napoli. Vella succede all'ammiraglio Arturo Faraone, destinato al centro alti studi della difesa. Un impegno straordinariamente efficace quello di Arturo Faraone a Napoli, sottolineato con forza dal comandante generale Pettorino. Nel saluto alla città, l'ammiraglio Faraone ha avuto modo di sottolineare i risultati ottenuti grazie all'impegno e alla totale dedizione degli uomini e delle donne della Guardia Costiera, che operano in Campania. Il bilancio personale è estremamente positivo. C'è il rammarico di lasciare una città unica al mondo e comunque sono sereno e soddisfatto di quello che ho fatto per Napoli e per il mare di Napoli. E spero di poter continuare a offrire tanto alla collettività marittima. Nel solco della sintonia con le istituzioni locali si immette il lavoro che aspetta l'ammiraglio Pietro Vella, già capo legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Mi aspetto di continuare sulla strada dei miei predecessori, come dicevo, impegnandomi nei vari settori che sono propri delle attribuzioni del corpo. Quindi sicurezza, tutela dell'ambiente, tutela della conservazione dei beni archeologici e delle risorse ittiche. Strage familiare a Vairano Patenora, nell'Alto Casertano. Un maresciallo della Guardia di Finanza, in servizio al porto di Napoli, ha ucciso la moglie e la cognata e si è poi suicidato. La sparatoria è avvenuta nella cartoleria di proprietà della famiglia delle due donne. L'uomo, Marcello De Prata, 52 anni, ha esploso ben 15 colpi con la pistola d'ordinanza contro la moglie, Antonella Laurenza, di 45, e la cognata, Rosanna, 43 anni. Il militare si è poi sparato alla testa, morendo sul colpo. Sono rimasti feriti gravemente anche il suocero e la suocera dell'uomo, ricoverati negli ospedali di Caserta e Piedimonte Matese. La coppia, molto conosciuta in città, lascia una figlia di 20 anni e un figlio di 13, Rosanna Laurenza, l'altra vittima, un figlio. La tragedia sembra sia avvenuto al seguito di precedenti liti tra l'uomo, la moglie e i familiari di quest'ultima. Ai carabinieri non risultano comunque denunce a carico del 52enne finanziere. Non una, ma ben tre cose. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, si è presentato alla stampa, a margine delle celebrazioni, per il 45esimo anniversario della Facoltà di Medicina della Federico II presso il secondo policlinico. Il titolare della terza carica dello Stato ha voluto rispondere punto per punto a quanto pronunciato da Matteo Salvini, ministro dell'Interno, ieri a Napoli. Primo punto, il ciclo dei rifiuti e la proposta di un inceneritore per ogni provincia. Uno schiaffo forte a questa città e a questa regione è arrivare qui e dire che ci vuole un inceneritore a provincia, dopo le lotte che sono state fatte, dopo l'avanzamento delle nuove tecnologie. E quindi in questa regione noi abbiamo bisogno di impianti di compostaggio, abbiamo bisogno di trattamento meccanico manuale, abbiamo bisogno di raccolta differenziata porta a porta, abbiamo bisogno di riuso, di riciclo, di riutilizzo e di riduzione a monte dei rifiuti. Di questo abbiamo bisogno, fuori dalla logica di discarica inceneritore. E se dopo tanti anni lo dobbiamo ridire, lo diremo ancora più forte e siamo pronti a lottare per questo. Secondo punto, la critica ai centri sociali. Non è così, perché non sono quattro scemi, come dice qualcuno, ma in questa città i centri sociali come l'OPG, persone come quelle che lavorano allo 081, realtà all'interno del centro storico. Sono realtà importanti perché sono realtà che hanno cercato di sviluppare un valore aggiunto sul territorio, stando vicino alle persone che sono in difficoltà. Ultimo, ma non meno importante, le parole utilizzate nei confronti del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Nessuno parla così comunque al sindaco di Napoli, che il sindaco è la capitale del sud Italia, è una capitale fondamentale europea e del Mediterraneo. Quindi non vi preoccupate che da questo punto di vista nessuno passa. L'ammiraglio Pietro Vella è il nuovo direttore marittimo della Campania e comandante della Capitaneria di Porto di Napoli. Ha assunto il comando ieri nel corso di una cerimonia presieduta dal comandante generale della Guardia Costiera, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, che si è tenuto nella stazione marittima di Napoli. Vella succede all'ammiraglio Arturo Faraone, destinato al centro alti studi della difesa. Un impegno straordinariamente efficace, quello di Arturo Faraone a Napoli, sottolineato con forza dal comandante generale Pettorino. Nel saluto alla città, l'ammiraglio Faraone ha avuto modo di sottolineare i risultati ottenuti grazie all'impegno e alla totale dedizione degli uomini e delle donne della Guardia Costiera, che operano in Campania. Il bilancio personale è estremamente positivo. C'è il rammarico di lasciare una città unica al mondo e comunque sono sereno e soddisfatto di quello che ho fatto per Napoli e per il mare di Napoli e spero di poter continuare a offrire tanto alla collettività marittima. Nel solco della sintonia con le istituzioni locali, si immette il lavoro che aspetta l'ammiraglio Pietro Vella, già capo legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Mi aspetto di continuare sulla strada dei miei predecessori, come dicevo, impegnandomi nei vari settori che sono proprie delle attribuzioni del corpo. Quindi sicurezza, tutela dell'ambiente, tutela della conservazione dei beni archeologici e delle risorse ittiche. La tutela della persona che presuppone necessariamente il diritto alla salute, parte integrante del diritto alla vita, bene e supremo per eccellenza. Sulle leggi 24.219 del 2017, con un focus su incapacità e consenso informato, nella caserma salvo d'acquisto di Roma, l'Associazione Valore Uomo, nata a Napoli, vent'anni or sono, ma riferimento nazionale per queste tematiche, ha organizzato un importante convegno di aggiornamento professionale. Il generale Sabino Cavaliere, comandante Unità Mobile e Specializzate Carabini di Polidoro. È interessante per tutti, perché la nostra è un'attività professionale, ma dietro le uniformi ci sono i cittadini, quindi è bene avere cognizioni di certe situazioni che possono porsi, non soltanto sotto il profilo professionale, dove già ci sono dei reparti specificamente operativi e specificamente addestrati, ma anche sotto il profilo personale, umano. Due le lecceo, la prima su diritti umani inviolabili, tra carte costituzionali e giurisprudenza, affidata a Gabriele Positano, magistrato della terza sezione civile della Corte di Cassazione, la seconda su bioetica e biotestamento di Natale, Mario Di Luca, presidente dell'Associazione Romano Laziale di Medicina Legale. I lavori sono stati aperti dal sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alla famiglia e disabilità Vincenzo Zoccano. Questa è un'ottima occasione per fare cultura, per sensibilizzare e soprattutto per, lasciatemi dire, orientare le decisioni verso una abilità residua di tutta l'umanità, che è la dignità. È la prima cosa che, credo, ognuno di noi nei rispettivi ruoli deve tenere presente per aumentare la qualità della vita delle persone. In sala centinaia di esperti, magistrati, avvocati, medici e alti ufficiali dell'arma dei carabinieri. Motore dell'iniziativa è il presidente dell'Associazione Valore Uomo, l'avvocato Giuseppe Mazzucchiello. Mi aspetto che forse si impari ad utilizzare un linguaggio più semplice e soprattutto che al centro di tutto ci sia la tutela della persona, perché alla fine tutti noi siamo persone e tutti noi siamo quelli che rappresentiamo l'ossatura, l'essenza del mondo e della vita. L'ammiraglio Pietro Vella è il nuovo direttore marittimo della Campania e comandante della Capitaneria di Porto di Napoli. Ha assunto il comando ieri nel corso di una cerimonia presieduta dal comandante generale della Guardia Costiera l'ammiraglio Giovanni Pettorino, che si è tenuta nella stazione marittima di Napoli. Bella succede all'ammiraglio Arturo Faraone, destinato al centro alti studi della difesa. Un impegno straordinariamente efficace quello di Arturo Faraone a Napoli, sottolineato con forza dal comandante generale Pettorino. Nel saluto alla città, l'ammiraglio Faraone ha avuto modo di sottolineare i risultati ottenuti grazie all'impegno e alla totale dedizione degli uomini e delle donne della Guardia Costiera che operano in Campania. Il bilancio personale è estremamente positivo. C'è il rammarico di lasciare una città unica al mondo e comunque sono sereno e soddisfatto di quello che ho fatto per Napoli e per il mare di Napoli e spero di poter continuare a offrire tanto alla collettività marittima. Nel solco della sintonia con le istituzioni locali si immette il lavoro che aspetta l'ammiraglio Pietro Vella, già capo legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Mi aspetto di continuare sulla strada dei miei predecessori, come dicevo, impegnandomi nei vari settori che sono propri delle attribuzioni del corpo, quindi sicurezza, tutela dell'ambiente, tutela della conservazione dei beni archeologici e delle risorse ittiche. È stato il PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, a ospitare la presentazione di Napoli Fashion Kids, la prima edizione di un evento che racconta e mostra il mondo bimbi in modo inedito, partendo da Napoli, ma già pronto ad approdare a Milano con l'edizione numero 2. Napoli Fashion Kids è il patrocinio dell'assessorato ai giovani, politiche giovanili, creatività e innovazione del Comune di Napoli, l'assessore Alessandra Clemente. Abbiamo un programma come assessorato alle start-up agli innovazioni che è fatto di un sostegno concreto a quelle idee creative e innovative che vengono dalla nostra città. Ed è sorprendente sempre la nostra Napoli perché spesso dei bei progetti artigianali, produttivi e di grandi anche estri, come Viviana Falace, incontrano l'arte vera e propria e soprattutto anche la grande innovazione di coinvolgere le bambine e i bambini della nostra città. Venerdì 30 novembre alle 19 a Palazzo Caracciolo in via Carbonara, in un'atmosfera quasi surreale, diventerà concreto un lungo lavoro iniziato tre anni fa con la Factory Design, ideata e diretta da Viviana Falace, presidente dell'associazione V Group, International Social Art Association e fondatrice di V Magazine, un progetto editoriale studiato e diffuso sul social network Facebook che ha poi trovato la sua duplicazione in V Magazine Kids. È stato un progetto sperimentale che è nato nel 2016 da Unidea. Si è sviluppato poi in un laboratorio creativo digitale dove i bambini hanno partecipato ad un contest design e hanno realizzato con i colori dell'atunno, questo era il tema dei disegni. Ho notato che questi disegni avevano qualcosa di speciale perché io amo i bambini, ho lavorato con loro quando avevo appena 16 anni, creavo favole interattive al computer quando nelle case i computer ancora non c'erano, parliamo di 30 anni fa. e quindi ho detto no, qualcosa c'è da fare con questi bambini e così ho estrapolato i segni distintivi che trovavo interessanti nei loro piccoli disegni e ho creato delle texture. Bambini e adulti protagonisti di Flesh on Moda con le creazioni texture design, evoluzione della factory design, risultato di un'autentica ricerca che nel meraviglioso chiosso settecentesco di Palazzo Caracciolo si esprimerà anche in un set fotografico allestito con i prestigiosi divani di Epoch by Egon von Fustenberg. In questa occasione gli ospiti vedranno anche un'anteprima di Celebration, mostra antologica di tessuti e bozzetti di Renato Balestra, che il 6 dicembre arriverà in città. Enzo Merli, art director Egon von Fustenberg. Mi è piaciuto tanto il fatto di associare il bambino alla moda, quindi l'idea, la creatività del bambino che viene realizzata in dei tessuti con delle tecniche innovative di cui la signora Viviana se ne è occupata e il risultato è stato molto soddisfacente, molto bello. Caro prof di Scrivo, gli adolescenti scrivono al docente di religione. È il titolo del libro, presentato ieri nel Salone Nassiria del Consiglio regionale della Campania. Scritto a quattro mani da Samuele Ciambriello, garante per i detenuti della Campania, professore di religione, e da Giuseppe Ventura, giovane scrittore di 23 anni, il libro affronta in maniera semplice e tematiche profonde, come quelle sul senso della vita, l'amore e l'amicizia, e lo fa chiedendo a dei ragazzi di liceo di esternare i loro sentimenti a riguardo su un foglio bianco. Le risposte sono state assolutamente inaspettate. Molti di questi mi hanno raccontato le loro esperienze sentimentali, affettive. Attraverso la musica abbiamo compreso come il valore del tempo è fondamentale, sia per le famiglie divise o non. Abbiamo cioè utilizzato lo spazio dell'ora di religione per fare un po' di educazione civica e un po' discussione di temi di attualità, il senso della vita. È stata un'esperienza fantastica, perché diciamo che era il mio sogno, ed è il mio sogno, diventare uno scrittore, e avere la possibilità di trascrivere parole di persone che hanno la tua età su un libro è assolutamente magnifico. Presenti al tavolo con gli autori, il professor Vincenzo Cappello, presidente AREC, la professoressa Paola Serra, del liceo Durante di Fratta Maggiore, Michele Viscardi, del coordinamento ex parlamentare della Campania, il professor Francesco Pisano, dell'ITIS Levi Montalcini di IV, l'avvocato Carmine Iodice, vicepresidente dell'ARE, e il consigliere regionale Antonio Marciano. Un bel testo, parla di bellezza, parla di una giovane generazione, tra l'altro il fatto che questo libro lo presentiamo in Campania, nella regione più giovane d'Italia, ha un valore in sé molto forte, e ovviamente racconta di bisogni, di gioie, di bellezza, ma anche di paura, e mi ha colpito molto il passaggio che riguarda il futuro. La stretta sulle incompatibilità per amministratori giudiziari in materia di incarichi contenuta nel decreto dello scorso 5 ottobre riguardante le modifiche al codice delle leggi antimafia è l'argomento al centro del dibattito organizzato ieri dall'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Napoli, al quale hanno partecipato magistrati impegnati in queste procedure e i dottori commercialisti. Ascoltiamo Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli, e Arcangelo Sessa, consigliere dell'Ogec Napoli. Spero che possa uscire una mozione da presentare agli organi incaricati, proprio perché c'è un limite di questa nuova legge, di questo nuovo codice antimafia, che impone un limite molto ristretto di tre incarichi per collega, e la non possibilità di nominare coadiutori, quindi c'è veramente un grosso problema da risolvere, ma questo a scapito delle procedure che hanno bisogno invece di specialisti, di persone preparate, competenti, e questa norma, così come è stata strutturata, certamente non aiuta, non favorisce un proseguo normale della giustizia. Questo limite di incarichi comporta un dei problemi sia alla categoria dei commercialisti, degli avvocati, di coloro che si approcciano a fare amministratore giudiziario, perché il limite degli incarichi ridotto a tre per tutto il corso degli stessi può capire che riduce il lavoro, in termini lavorativi, quello che è la specializzazione di un professionista. Intervenuti anche per Luca Bevilacqua, presidente della Commissione di Diritto Penale dell'Economia dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, Giovanna Ceppa Luni, presidente sezione GIP del Tribunale di Napoli, e Claudia Ferrari, procuratore della Repubblica di Palermo. Non solo si parla dell'incompatibilità, ad oggi, voglio dire, ce ne sono una miriade, non puoi avere rapporti col proposto, e questo già c'era prima, non puoi avere rapporti col magistrato che ti dà, avere in ogni, in senso proprio largo, rapporti col magistrato che ti dà l'incarico, non puoi avere rapporti col cancelliere del magistrato che ti dà l'incarico, è annessese addirittura a tutti i magistrati della Corte di Appello di Napoli. L'obiettivo è questo, un'interpretazione unitaria, un indirizzo che non sia diverso da una stanza all'altra dello stesso palazzo. La ricaduta sull'attività è sicuramente doversi confrontare con un turnover, con una platea più vasta di amministratori giudiziari, di persone la cui competenza, la cui professionalità va comunque testata sul campo e quindi con le incognite che questo può presentare, soprattutto comunque in luoghi in cui la criminalità organizzata ha una forte permeabilità. di amministratoria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.